Musica Con l'arrivo dell'estate si cambiano le abitudini alimentari. I rimedi anticaldo puntano sul consumo principalmente della frutta fresca e della verdura fonte di vitamine, sali, minerali e liquidi preziosi per mantenere l'organismo in efficienza e per combattere i radicali liberi prodotti come conseguenza all'esposizione solare. In questo periodo in cui aumenterà in questi giorni notevolmente la temperatura e soprattutto l'umidità è necessario che le persone siano accorti alla esposizione diretta alla luce solare, quindi al sole per più ore. Quindi se non è necessario per lavoro o per altre attività è meglio evitare. Cercare di uscire nei momenti più freschi che alle ore del mattino o nel pomeriggio. E contenzionalmente ricordarsi di assumere liquidi, in particolare acqua o bevande che permettono di integrare quelle che sono le perdite fisiologiche di acqua e di cibarsi soprattutto di frutta, di verdura ed evitare altre sostanze che invece comportino l'assunzione di altri liquidi. D'altra parte, soprattutto alle persone più fragili, soprattutto alle persone anziane, è necessario che abbiano una contestuale particolare accortezza per quelli che sono l'assunzione dei farmaci abituali e che quindi devono essere assunti se non ci sono variazioni importanti della loro situazione, soprattutto prendendo contatti con il proprio dottore se si accorgono che le cose sono cambiate. Tanto per capirci, per esempio, variazioni della pressione, sensazioni di instabilità e similari. Davanti a spossatezza calure estiva a volte si assumono farmaci di propria iniziativa che possono però interagire nel caso in cui si stia seguendo una cura con altri farmaci. Il problema dei farmaci autoassunti è molto importante perché mediamente un terzo delle persone abitualmente assumono dei farmaci senza che questi siano comunicati al proprio medico curante e non c'è la consapevolezza che questi possano interferire in maniera anche importante con quelli che abitualmente sono assunti. Parlo ovviamente delle persone più anziane che abbiano quindi la necessità di dover assumere farmaci per l'epressione elevata, per il diabete, per farmaci anticoagulanti, antiaggreganti. Quindi qualcuno deve assumere farmaci anche per esempio per il controllo dell'umore e tutti questi farmaci possono avere un'importante interazione anche con farmaci autoassunti. Quindi tanto facciamo degli esempi per capirci anche delle sostanze prese per il controllo dell'alvo che chiaramente possono andare a interferire in relazione al momento e alla quantità con la quale vengono assunti con quelli abitualmente presi riducendone per esempio l'efficacia oppure comportando la necessità di un'ulteriore aggiunta di liquidi proprio perché comportano per il loro meccanismo di azione la necessità di avere un'importante quantità di liquidi corporei presenti. Attenzione anche alla dieta che può ridurre l'efficacia dei farmaci e aumentare gli effetti indesiderati. Con la bella stagione aumenta il consumo di bevande rinfrescanti, tra queste il succo e la spremuta di pompelmo. Ma chi assume medicinali dovrebbe fare attenzione perché il succo di pompelmo interagisce con molti farmaci provocando un aumento della loro azione compresi gli effetti indesiderati. Serve prudenza anche per evitare l'interazione tra farmaci ed integratori da assumere sotto consiglio medico. Gli integratori è una cosa molto complessa, diversa sono gli integratori che possono o vogliono assumere alcuni sportivi, alcuni giovani che pensano di avere un vantaggio rispetto alle prestazioni fisiche. Altri sono degli integratori che idealmente si vorrebbe assumere per avere una, fra virgolette, proprio integrazione rispetto alla perdita, per esempio, di elettroliti, di potassio, di magnesio. Bisogna stare accorti a quello che si assume perché questi farmaci hanno sempre una possibilità di interazione con quello che si assume e sarebbe opportuno, soprattutto con chi già ha una molteplicità di farmali che deve prendere, farne sempre una comunicazione al proprio medico di riferimento, al medico di medicina generale, può benissimo dargli il suggerimento della possibilità o meno di quante assumere e di come assumere eventualmente questi farmaci. Anche quando parliamo di farmaci autoassunti, possiamo mettere in questa categoria anche l'omeopatia? Il discorso dell'omeopatia è abbastanza complesso e cerchiamo di fare un discorso semplificato. In prima istanza l'omeopatia dal punto di vista medico è una branca complessa che ha bisogno di una specifica conoscenza dell'interferenza delle sostanze che si assumono di tipo vegetale con quello che è la reazione all'organismo. L'altra cosa invece è l'autosomministrazione di sostanze di tipo apparentemente omeopatico pensando che non abbiano se non effetti positivi. E questo in verità non è vero. La differenza rispetto all'assunzione con farmaci abituali è che esistono dentro queste erbe delle sostanze che hanno un'efficacia sull'organismo, ma la quantità di queste sostanze non è definita e quindi bisogna stare particolarmente accorti su che cosa si prende, per quanto tempo e in che quantità. La differenza rispetto all'assunzione con farmaci abituali è che si prende, per quanto tempo e in che quantità.